qui buttiamo giù tutto quanto qua ci facciamo una bella colonna qua un'altra bella colonna qui ci facciamo un bel soppalco camera cucina soggiorno bagno camera da letto lì un bel rosone 150 mila euro via colonna via l'altra colonna via soppalco via rosone usiamo il cemento da 325 che costa meno dei bei travi di faggio che sono caldi e belli 80 mila euro malta prendiamo i mattoni alla casa colonica in fondo alla strada con quelli più belli ci facciamo un bel sistema di archi che tengono sulla casa al posto dei travi 30 no 15 mila euro no io non rischio grazie a tutti